Ben ritrovati a Orobie Extra il 7 di luglio, Save the Mountains insieme sulle Orobie, sulle nostre Orobie e soprattutto per raggiungere i nostri rifugi per una giornata però a impronta zero. È l'inizio, Paolo Valoti, presidente del CAI che è con noi oggi, è l'inizio di un percorso, non una giornata, una tantum per le nostre montagne. Indubbiamente questo progetto di educazione e sostenibilità che è nato come idea l'ottobre dello scorso anno, pensare appunto cosa nel futuro avremmo fatto per quest'estate, ha davvero avviato un coinvolgimento ampio, tanto perché è un progetto che nasce sì dal CAI di Bergamo ma coinvolge subito gli alpini di Bergamo e le istituzioni come la provincia e l'osservatore della montagna e in questo percorso che abbiamo fatto il progetto ha davvero lavorato soprattutto sui contenuti e gli obiettivi che vedono di fatto il 7 luglio la giornata in cui inizia questo percorso di condivisione con gli appassionati, gli amici, gli alpini, i soci che vorranno partecipare di salire da rifugio e come ho detto è un percorso appunto di avvicinamento, di educazione alla montagna, chiaramente oggi con quelle che sono le sensibilità che crescono rispetto all'ambiente, rispetto alle risorse e soprattutto rispetto alla gente che vive di montagna in montagna. Tanto è vero che il progetto avvia appunto questo percorso del 7 luglio, vuole porre appunto un'attenzione davvero particolare alle persone che vivono di montagna in montagna, è vero che uno degli obiettivi davvero concreti di questo progetto di educazione e sostenibilità l'abbiamo definito sostenibilità generazionale perché i partecipanti, gli alpini, i soci che arriveranno al rifugio si chiedono appunto un contributo di solidarietà nell'iscrizione diciamo di questa manifestazione ma perché queste risorse vogliono essere destinate a sostenere appunto giovani che attivano, che creano, che innovano attività, lavori, mestieri, imprenditoria in montagna ma perché sappiamo che uno davvero delle necessità e che deve coniugarsi anche con la sostenibilità di conseguenza con queste sensibilità non sono ambientali, è quello davvero di trovare condizioni e anche cambiamenti perché giovani trovano lavoro e attività in montagna e allora come si è detto il progetto nasce davvero con un'idea di diffondere la conoscenza, la cultura della montagna peraltro a tutti, questo è davvero un obiettivo e una finalità che è istituzionale del calcolo di promuovere la conoscenza, anche la cura, la tutela dell'ambiente e come si è detto il 7 luglio è solo l'inizio di questo percorso di sensibilizzazione, di coinvolgimento anche per l'aspetto diciamo anche sicuramente come si può dire ludico, ricreativo della montagna ma anche tutte le valenze assolutamente educative e come si è detto un percorso che inizia il 7 luglio dove chiederemo ai partecipanti di questo evento di arrivare al suo rifugio per sottoscrivere idealmente il proprio impegno a frequentare la montagna secondo questi criteri appunto di sostenibilità, di rispetto, di consapevolezza peraltro con criteri che davvero vorrebbero non essere solo comportamenti agiti in montagna ma che si possono agire in tutti i giorni, quindi il percorso inizia il 7 luglio su questo libro del rifugio chiederemo a ciascuno di sottoscrivere il proprio impegno e siccome il 7 luglio inauguriamo questo percorso resterà il registro tutta l'estate in modo da poter raccogliere non solo l'impegno di chi vorrà sottoscriverlo idealmente ma anche osservazioni spunti e critiche perché ci possa permettere davvero di raccogliere suggerimenti di fare davvero un progetto collettivo che a conclusione dell'estate ci possa permettere appunto di fare sintesi, capire, approfondire e magari trovare idee migliorative per rilanciare nel prossimo anno una nuova giornata della sostituità in montagna che ci vede davvero protagonisti tutti ma soprattutto di poter fare una giornata che tenga sempre al centro della nostra attenzione visto che parliamo CAI, ALPINI e BERGAMO, BERGAMO diciamo davvero un'anima legata alla montagna possa davvero mantenere al centro di un'attenzione la nostra montagna e soprattutto la gente che vive in montagna. I rifugisti stessi sono in prima fila, sono chiamati a impegnarsi in prima persona perché sono i luoghi che i rifugi sono i luoghi che verranno raggiunti ma loro stessi nella loro attività, nella scelta dei prodotti, nell'ospitalità devono sempre guardare l'aspetto ambientale. Diciamo i rifugisti hanno davvero una professione importante e particolare innanzitutto è una professione impegnativa anche questa possiamo dire articolata direi da un certo vista multifunzionale al di là davvero dell'aspetto dell'ospitalità, della simpatia e di fatto i rifugisti sono i nostri ambasciatori in montagna. I ambasciatori intendiamo davvero testimoni dei valori che la montagna rappresenta ma dall'altro lo dobbiamo anche dire sono davvero anche le sentinelle dell'ambiente perché sono davvero appassionati, sono professionisti che vivono la montagna tutti i giorni e con tutte le condizioni diciamo così anche climatiche che la montagna si esprime dalle giornate davvero bellissime, radiose come ci possono essere ma anche le giornate più impegnative davvero i gestori rappresentano un baluardo di qualità nella professione ma anche in questa capacità di essere davvero attenti, rispettosi dell'ambiente e soprattutto gente concreta che agisce perché la montagna si mantenga appunto viva e vitale. Sul progetto ci sono stati punti di vista diversi, commenti ovviamente sfaccettature molto diverse che sono state sottolineate soprattutto a partire dalla parola record che all'inizio c'era. Ma su questo ci siamo resi conto che da un annuncio anche iniziale fatto sull'entusiasmo non nascondiamo che comunque l'abbraccio della presolana ha suscitato nella Bergamasca e ancora oggi rimane un ricordo davvero che accende le migliori energie, i più bei ricordi. Ci siamo accorti che il pensare di fare una manifestazione di questa ampiezza perché di fatto va anche considerato che il progetto coinvolge una rete di rifugi, per cui vuol dire una manifestazione diffusa sul territorio come peraltro la Bergamasca è ricca appunto di rifugi. 16 rifugi più l'ostello Corò. Esatto, a cui si sono aggiunti anche dei rifugi privati, chiaramente quelli iscritti al registro regionale perché questo progetto CAI-ANA di Bergamo vuole essere davvero un progetto che promuove la montagna a 360 gradi. Allora ci siamo accorti che l'aver parlato di record, l'aver parlato di un numero solo per qualcuno è rimasto davvero un riferimento che ha suscitato diciamo appunto critiche e anche osservazioni. Però ecco, su questo abbiamo giustamente voluto chiarire e rispondere in modo assolutamente trasparente che la manifestazione, questo percorso non persegue un record di numero, certamente persegue un coinvolgimento di una montagna diciamo per tutti, anche perché, questo davvero lo vogliamo condividere con tutti gli appassionati, ogni socio del CAI ha una tessera dove c'è una frase emblematica e che è stata scritta da Guido Ray e che è stato definito il poeta del Cervino e la frase dice questa la montagna è per tutti, non solo per gli alpinisti, per chi cerca il riposo nella quiete e per chi cerca nella fatica un riposo più forte. Ecco, noi come progetto Save the Mountains vogliamo davvero che la montagna sia per tutti, chiaramente oggi con quelle attenzioni, quella consapevolezza legata appunto all'educazione e alla sostenibilità che non solo vuole salvaguardare le montagne al plurale, visto che le montagne sono tante, ma anche e soprattutto le loro culture perché un progetto che certamente ha una finalità di sostenibilità ambientale e soprattutto se parliamo di montagna non possiamo non avere come priorità salvare davvero la gente che vive di montagne e come abbiamo detto l'obiettivo della sostenibilità generazionale ai quali vorremmo appunto destinare le risorse raccolte da questo progetto è comunque un tentativo, una parte di attività, sì ma quello che fanno le istituzioni appunto per mantenere, stimolare, incoraggiare i giovani a cercare e a creare il proprio futuro in montagna. Quindi in montagna il 7 di luglio ma anche tutti gli altri giorni è sempre in punta di piedi. Esattamente, il 7 di luglio è idealmente l'inaugurazione di questo percorso, siamo all'inizio della stagione estiva, qui ci auguriamo che sia davvero una stagione di soddisfazione per tutti, la montagna per chi abbiamo detto cerca il riposo, chi cerca la contemplazione, chi cerca la prestazione fisica, chi cerca il piatto tipico, davvero la montagna è davvero una realtà non solo un luogo geografico ma è davvero l'espressione di tante sensibilità che ogni uomo cerca e che ci permettiamo di dire salendo verso l'alto dove sicuramente ci costa un po' di fatica ma avremo modo di gustare non solo di più e rifugiamo anche il senso della vita proprio per questo impegno che ci chiede per salire verso l'alto. Grazie a Paolo Valotti e grazie anche a voi che ci avete seguito da casa, alla prossima.